Benvenuti a tutti, sono Arca di Nammer e siamo qua per le Arca News martedì mattina e oggi siamo in tre. Sorpresona perché c'è una notizia di cui non sono tanto esperto, ho detto magari qualcun altro lo può essere. Sono curioso anche di sapere cosa ne pensa Cinefranc perché non l'ho preparato alle notizie di oggi. Così proprio come va. Ciao Frank, come stai? Ciao ragazzi, bene bene bene, come sempre è un piacere essere qui con Arca News, quindi grazie come sempre ad Arca per il video. Ricordiamo che non solo dovete iscrivervi a Fradi Occhi all'Horror, ai canali che poi vi dirà, a Cinefranc e a Valinor e al mio, ma facciamo Cinefranc ogni giorno, quasi cinque giorni a settimana, con le notizie e più di queste, più di quelle che faccio io qua, quindi ogni giorno. Quindi oggi, perché è martedì, facciamo Iron Man e tutto l'MCU, solo Iron Man, incominciamo col primo film, facciamo l'analisi, quindi. E il sabato, The Rings of Power, per i grandi fan, la prima stagione, quindi. Poi sotto abbiamo Fradi Occhi all'Horror, salve. Salve, salve, è sempre un piacere essere qui, soprattutto per oggi, perché ho spulciato su qualche notizia di cui parleremo e, cioè, sono elettrizzato, cioè non vedo l'ora di andare contro praticamente a tutta l'industria, no, volevo dire. Vabbè, a me trovate come sempre su quel famoso canale, Occhi all'Horror. Ultimamente non ho fatto granché per causa studio, esami di maturità, però si torna, si tornerà. E niente, quindi velocemente già mi concedo da questa presentazione. Anche io e Frank ci stiamo preparando all'esame di maturità, è dura, è dura, però... Ogni giorno ormai, esami di maturità in realtà sono ogni giorno. Ogni giorno. Va bene, allora incominciamo subito con gli incassi. Lo sapete, vediamo chi ha incassato in America e quanto è in Italia, con il budget e gli incassi di tutto il mondo, essenzialmente. Andiamo, USA, come al solito, vi dico le posizioni e poi metto il banner. Quinto posto, The Fall Guy, che ormai ha finito, ma è sempre quinto. In cassa quei 2-3 milioni alla volta, 130 di budget, 158. Flop, non fa neanche il doppio, non ci arriva manco per sbaglio. Floppone. Ma sono vecchie cose che abbiamo detto anche altrove e negli altri Arcanews. Quarto, il Regno del Planeta delle Scimmie, Kingdom of the Planet of the Apes, 160 di budget, fa il doppio. Fa più del doppio, 337, quindi 320. Un po' di più del doppio. È un flop, ma misurato, anche se dovrebbe almeno raggiungere i 400, non dico i 500. Poi Furiosa, floppone, clamoroso. Terzo posto, 168 di budget, 114. Terza settimana. Io dico, se arriva a 150, è un miracolo. Io dico 140. Secondo posto, If, che nonostante il buon secondo posto è un flop, 110 milioni, incassa 138. Ci spiace. Il film di per sé ha ben incassato per quanto riguarda il suo pubblico, ma non può costare così tanto. Garfield, The Movie, cioè io lo chiamo The Movie, ma sarebbe Garfield, una missione gustosa, che non so come in inglese, non ho voglia di ricercarlo, è l'ultimo comunque. Garfield, missione de gusto. Esatto, 60.152.000, quasi il triplo, ed è uscito da poco in America, quindi può ancora fare bene. Io portai la recensione tempo fa, perché è uscito prima in Italia e poi in America, me la metto qui in alto, poi nelle schede. Frank? Allora, ne abbiamo parlato ovviamente anche in altre occasioni, su altri canali e in altri format, però io ancora una volta voglio puntare l'attenzione sul fallimento di Furiosa e ancora una volta mi voglio arrabbiare. Come puoi aspettarti di fare un ottimo risultato al botteghino se hai totalmente cambiato le carte in tavola? Hai eliminato il personaggio protagonista da cui si è originata la saga, da cui è partita la saga, e cioè Mad Max. È da lui che è nata sta saga. Tu lo elimini totalmente, totalmente dalla saga, dal film, lo elimini totalmente. Ci metti un'attrice fuori ruolo, che è ovviamente Ania Taylor-Joy, per me è assolutamente fuori ruolo. Un Hemsworth che cerca di far vedere quanto è bravo, ma per me ha fatto la figura del pagliaccio, interpretandolo in quel personaggio in quel modo. Una narrazione che fa acqua da tutte le parti, ne abbiamo parlato anche con il signor Arcadine, ma cosa ti aspetti di ottenere? Cosa ti aspetti di ottenere? E questa probabilmente sarà la fine del Mad Max Universe. Questa è la fine, non ce ne saranno più. Perché noi, come abbiamo letto l'altra volta, Miller disse che avrebbero fatto un altro film se avesse... Se ti ricordi, se degli astri si fossero allineati, se avessero incassato, è molto molto semplice. Non hanno incassato manco... È forse uno dei peggiori flop degli ultimi anni, dei blockbusters degli ultimi anni. Non lo faranno più. Per il resto, i bambini vincono, i bambini trionfano. Garfield, Movie, in modo inaspettato, ha praticamente quasi raggiunto il per tre. E poi c'è If, che è un successo in parte, ma non ha raggiunto manco il per due. A malapena ha uguagliato il budget, cosa che anche quella è abbastanza irrisorio. Ma ripeto, furiosa, che al momento... Comunque è passata... Quanto è passata? Una settimana? Non ha raggiunto... No, no, di più. Di più. Non ha raggiunto nemmeno il budget. È ridicolo. È ridicolo. Dovete imparare, porca miseria. Poi imparerete a fare le cose fatte bene con il culo. Spero che prima o poi impareranno. Kingdom of the Planet, io non l'ho visto. Ancora lo devo recuperare, non mi interessa manco per il ciufolo, perché non sono attratto da quella saga. Ma anche quella non sta andando benissimo. The Fall Guy, vabbè, già ne abbiamo parlato. Molti puntano il dito verso il fatto che siamo in estate. No, raga, qua il problema non è l'estate. Qua ci sono... Ovviamente ci sono tanti fattori che hanno contribuito alla cosa. Il fattore è che molti dei film che dovevano uscire quest'anno sono stati rimandati al prossimo anno a caso dello sciopero di sceneggiatori. E quindi ovviamente pagheremo lo scotto quest'anno. Sono usciti fino ad adesso Dune, è uscito Mad Max, e al massimo uscirà Wolverine, Cos e Deadpool a portare un po' di entrate al bottichino. Poi ci sono un paio di film d'animazione, Inside Out 2, Oceania, che potrebbero pure fare qualcosa. E poi basta, è finita quest'anno. Purtroppo quest'anno è veramente molto, molto, molto povero. Perché? Per lo sciopero degli sceneggiatori, abbiamo già detto. Si è aggiunto poi il fatto che, per tanti motivi, la gente non sta andando più molto al cinema. Dopo, nella fase post-Covid, soprattutto negli Stati Uniti, dove ovviamente vivo, e quindi mi sto rendendo conto di com'è la situazione, i cinema sono vuoti, perché gli americani non escono di casa. Figuriamoci se si vanno a vedere un Mad Max dove non ci sta Mad Max. Figuriamoci. e i bambini, perché come ha detto anche la mia cara megliettina, gli americani sono disposti a vendersi gli organi per far felici i propri figli e per rintrattenerli. E infatti, il risultato è quello. Nonostante comunque non siano dei grandi successi, tranne Garfield. Garfield, l'avventura gustosa, me lo devo vedere, perché ancora non l'ho visto neanche. Me lo devo vedere. Anche se la recensione di Ark non mi aveva fatto sperare anche. Però a quanto pare... Film per bambini, insomma. Ai bambini piacerà. A te non lo so. Io tra questi in realtà ne ho visto solamente uno, però ne ho sentiti parlare tutti. Ne ho visto uno e tra l'altro va anche raccontato come, perché io ero andato a vedere La sposa cadavere che ridavano al cinema e lo spettacolo subito prima. In quella sala era Garfield, The Movie. Mi hanno fatto entrare prima, perché quelli da si sono sbagliati con l'orario, in questo bellissimo The Space, di cui non farò un nome. E niente, mi sono visto a scrocco due film, praticamente. Beh, bravo. Quindi, molto legalmente, sì. Garfield, The Movie, che è, vabbè, qualità a parte. Però una cosa che mi ha sorpreso è che la sala era piena. E penso che in USA sarà anche il doppio. Io onestamente, per quanto riguarda Furiosa, sono d'accordo con quello che ha detto Frank. Ovvero, tu stai estirpando, perché questo è estirpare da una saga, il protagonista, grazie a cui è andata avanti quella saga. Perché sì, ok, possiamo, le scene action, Mad Max Fury Road, alla fine, comunque, Mad Max è un personaggio fondamentale. Tu lo estirpi. Metti un altro personaggio, di cui, secondo me, almeno, non è che ci fosse così tanto da raccontare da Fury Road, o che ne so. Poi, magari, non l'ho visto, magari hanno fatto una grandissima storia, non lo so. Quello che posso dire è che all'epoca già Mad Max Fury Road, con ottime premesse, fu un flop, se ricordiamo bene. Furiosa, in un periodo ancora peggio, perché siamo in un periodo dove gli stessi blockbuster, cinecomic e tutto, floppano. In un periodo dove, appunto, al cinema non ci si va se non per i bambini. Levando il motivo per andare a vederlo, sei davanti a un flop proclamato. Quindi, di Furiosa, non sono per nulla sorpreso, in realtà. Kingdom of the Planet of the Apes me l'ho aspettato, perché onestamente è una saga che ormai, non lo so, non l'ho visto, anche qui, però ho visto tutti gli altri. Anche quelli di Matt Reeves, comunque, che è un signor regista, secondo me, ma comunque alla fine l'azzolfa. Cambi delle cose, ok, magari ha la premessa più carina lì, la premessa più carina là, ma siamo sempre sulla stessa linea. E dopo Tot Film, io penso che ormai non c'è neanche quell'interesse di scalpore, di andarla a vedere. The Fall Guy avevo saputo, in realtà, io di un ingresso al botteghino molto buono, forse magari per il cast, ed è crollato a picco subito dopo. Questa è altra cosa che non mi fa sperare per nulla. E If, invece, so che tipo, If è quello dell'amico immaginario. Sì, sì. Ok. So che tipo, è un film che aveva degli ottimi spunti, secondo molti, ma che alla fine comunque si butta un po' sulla... Vabbè, Film per bambini, alla fine non è che sia stato un gran successo, cioè, secondo me non è rientrato manco nei costi, perché alla fine tutto, quello che hanno fatto, a livello di marketing e pubblicità, che è stato una roba enorme, veramente, in tutto il mondo, secondo me, ancora non sono neanche rientrati nei costi. Però If in teoria in America è tipo le prime settimane. No, terza, secondo terza. Ah, niente. Secondo me, si può fare quanto? 13 milioni massimo, ma... Ma sì, forse sì. Forse sì. Si ferma lì. Quindi, nulla c'è, me l'aspettavo, me l'aspettavo tantissimo. Quindi, sono d'accordo con ciò che... È un periodo dove questi film, tranne Garfield e movie, non possono andare, cioè, vi dico altre informazioni fuori dalla classifica dei primi cinque, perché è interessante. Il film IQ, che ho portato sul canale, perché è uscito anche in Italia, ha costato fra i 5 e i 10 milioni, ne ha incassati in tutto il mondo 80. Vedete come si fanno i soldi? Così. The Stranger ormai ha fatto un grande botto, perché 32 milioni e ne ha costati 4. Siamo sempre là, siamo sempre là, l'horror, dico. e poi c'è Tarot, che incassa ancora, quasi 4 volte il budget, quindi, alla fine, gli horror vincola, perché, se non spendi 168 milioni, magari... Ma secondo me non è neanche l'horror in sé, non mi dilungo perché sarà stato già detto, però è un periodo storico, in cui se vuoi incassare, devi spendere pochissimo. L'horror è un genere che si presta a ciò, però quello che è l'horror, il cinema, diciamo, più finto indipendente, chiamiamolo così, perché ormai c'è una sorta di cinema che si spaccia per indipendente, ma che poi non so quanto sia indipendente, perché è abbastanza ben visto. Se tu spendi poco, li ripigli, in qualche modo. Se spendi già, c'è Furiosa, 168 milioni per un'impresa così. Teoricamente, io aggiungo che il concetto di cinema indipendente, di cui faccio parte in realtà anche io, è quello che si discosta dalle grandi major. Cioè, se tu hai una produzione che non fa parte delle grandi major, quindi Warner, Disney, e così via, già sei cinema indipendente. Però, al giorno d'oggi, soprattutto in ambito filmmaking, il concetto di cinema indipendente è molto spesso legato al low budget, cioè a un budget che è al di sotto del milione di dollari, per esempio. Quindi, molti tendono a preferire quel tipo di definizione. Io, personalmente, mi baso sulla definizione originale. Il problema, però qual è? Come fai a capire se è un film indipendente? Cioè, come fai a dire che una produzione non è major o meno? Quando è che una produzione diventa major? Per major dobbiamo riferirci solamente alle grandi, veramente alle principali produzioni mondiali, ma a quel punto quasi tutto ciò che non è Disney, non è Warner, non è poco altro, diventa indipendente. Quindi è una parola che va usata con molta parsimonia. Io sono d'accordo con te, però ci sono case di produzione tipo la Blue Mouse che si spacchiano. Quella è cinema, ma come fa? Ma non è cinema indipendente quello? Lo scherziamo, lo scherziamo proprio. Si spacciano, c'è questo esempio, quello è cinema indipendente perché è costato 10 milioni. No, non funziona così. A parte che 10 milioni già è un signor pato. 10 milioni non è un cinema indipendente, nemmeno per invasarsi sul budget. 10 milioni su 10 milioni. Esattamente, quindi alla fine. quanto è costato? Vabbè, quello non so se era da Blue Mouse, Abigail. Era Blue Mouse, Abigail? 30 milioni. è costato 30 milioni. 30 milioni. Ma che cinema indipendente. Alcuni l'hanno definito cinema indipendente, però anche Giancarlo Esposito. Allora, andrebbe un attimo andrebbe un attimo adottata una definizione specifica. Che cos'è il cinema indipendente? E poi in base alla definizione che associano, come il cinema d'autore? Che cos'è il cinema d'autore? C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra. Sono definizioni che io personalmente non preferisco usare, non mi piace usare, proprio perché si prestano alle interpretazioni e quindi rimaniamo molto sulla strada. Ok, ok. Andiamo in Italia invece. Come si è ammessi? Eh, in Italia è interessante perché ci sono dei titoli metto subito la classifica. Intanto voglio far notare che Furiosa è quarto. Quindi io posso dire però in America non ho anche in Italia è quarto. Quindi Vince Me Contro Te recensione sul canale Operazione Spie film meraviglioso con il signore S Best Villain Ever eccolo lì che mi mancherà visto che forse non tornerà più If secondo posto terzo l'esorcismo ultimo atto che però incassano molto poco questi film ve lo dico perché il primo Me Contro Te ha fatto circa un milione di euro per farvi capire la differenza col cinema americano dove se ti va male ne incassi 15 se ti va male vabbè comunque e incassano molto poco quinto posto per IQ che comunque è piaciuto Regno del Pente delle Scimmie ancora sesto poi uno che non ho visto che è una serie tv divisa in due l'arte della gioia con la Golino che ha fatto pochissimo ottavo Garfield nono quello schifo atomico di The Penitent recensione sul canale Evangelo Secondo Maria decimo quindi questi avete velocemente da dire perché non so se non che lo avete visto io Me Contro Te ancora una volta i bambini i bambini vincono IF altro film per bambini l'esorcismo l'ultimo atto credo che sia semplicemente abbia attirato le persone che pensano che sia il sequel dell'esorcista del Papa cosa che come abbiamo detto più volte non è quindi molti si saranno aspettati il trascione che come hai detto Tuark io ancora non l'ho visto però come tu hai detto non è in realtà Furiosa siamo sempre allo stesso livello e poi c'è l'anime classica anime sappiamo che gli anime in Italia vanno bene si può dire solo che oltre a ciò l'esorcismo l'ultimo atto sicura anche sul fatto che è un po' l'alternativa perché in questo periodo ci ritroviamo Me Contro Tre IF tanta roba destinata al pubblico più giovanile tu cerchi l'alternativa ancora trovi Abigail forse in qualche sala ma non in tutte queste grandi sale l'alternativa qual è? andiamoci a vedere magari è il sequel di quello no però è l'alternativa per il resto IQ sono curiosissimo di vederlo secondo me probabilmente a livello di qualità è anche quello che se li mangia per 4 quindi sì probabile probabile sì ma c'è ancora domani Arca? c'è ancora domani a che posto sta? c'è ancora domani e domani domani poi arriva no ma poi esceci ancora dopo domani lo ha annunciato Palacortellesi sulle donne degli anni 70 ma veramente? sto scherzando? no 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 sulle donne degli anni 70 sì ovviamente sto scherzando però mi immagino lei che dice allora siamo 68 più o meno casalinga che rimane in casa che poi con i valori del 68 sconfigge il marito cattivo e c'è ancora che viene viene impicchiato sotto le note di Albano fantassima mamma mia esatto esatto vabbè andiamo alle cose serie in Italia è questo essenzialmente come ho detto Furiosa scende perché e qua è la dimostrazione il film non interessa io non credo solo per il fatto perché non c'è Mad Max nella saga sicuramente anche questo ma è un film di due ore e mezza che è pesante e non ha neanche l'insattenimento che aveva Mad Max Fury Road quindi uno che dice ma andiamo a vedere questo film ci sono le scene d'azione e fa e fa l'amico no guarda non c'è andare ecco abbiamo finito essenzialmente questo andiamo su un'altra vera notizia qua faccio andare prima fra leggo il trafiletto giusto per e poi Welcome to Derry il prequel di It formato serie tv si farà ormai ufficiale Bill Skazgard è pronto a vestire nuovamente i panni del clown Penny Wise nel prequel di It e It capitolo secondo di Muschietti lo show come i due film della saga sono ispirati a Stephen King al timone Muschietti che dirigerà 4 dei 9 episodi previsti va bene c'è anche sua moglie come producer perfetto poi ma cosa sappiamo della serie nel cast c'è un numero di persone che non conosco e neanche voi quindi non le dico per il resto sappiamo che torneremo nella immaginaria cittadina del Maine rese celebre dal libro vabbè basta uscirà su HBO Max nel 2025 va faranno teorie su quello che faranno vedere io ho una parola aspettative che descrive il mio stato d'animo che non è eccitazione è terrorizzato ah da It sei no no dal progetto in sé fin da quando lo annunciarono da una parte sono curioso perché da amante del romanzo ho tutta la collezione Lady King abbiamo fatto una live sul tuo canale esattamente andate a recuperarla abbiamo fatto una live proprio su It in generale da appassionato di quel mondo oppure riconoscendo tanti difetti soprattutto nelle trasposizioni cinematografiche perché vanno raccontati io penso che sia un progetto disastroso in partenza vogliono ripescare It in un periodo che ormai è fuori tempo fuori tempo non perché non si possono permettere di fare un sequel dopo dieci anni vent'anni per carità It quando uscì si cullò di un fattore il fattore nostalgia che andava molto in quel periodo tra serie tv stranger things bla 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 tra film bla bla tutti ambientati agli anni ottanti ed It era l'emblema di quel genere lì chiamiamolo genere di quella tendenza lì e si cullò in ciò quella tendenza lì però ha stancato ha stancato tantissimo anche il pubblico che prima lo apprezzava quindi questa serie si pone in ciò sarà ambientata negli anni 50 da quello che so che sarebbe l'ambientazione originale della storia del gruppo dei perdenti nel romanzo perché ricordiamo che il romanzo e i film hanno delle date e ci sta adattarlo ai nostri tempi ok quindi vi annuncio già che per chi ha letto il romanzo non c'è nulla sarà una cosa scritta da zero ed è ciò che mi terrorizza il primo hit di Muschietti con i suoi con le sue grandi pec che lo trovai comunque carino un coming of age ok te lo guardi va bene il secondo che già peccava del fatto che mancava la storia da raccontare perché avevano la maggior parte del romanzo si concentra da loro da ragazzini ed è il primo film nel secondo film la sceneggiatura fa buchi acqua da tutte le parti perché non era tutta roba presa dal romanzo o adattata dal romanzo perché comunque il romanzo preso e fatto a film non va bene però prendevano l'idea e l'adattano ok hanno dovuto inventare roba facendo un disastro e adesso qui addirittura devono inventarsi tutto Bill Skarsgård che lo fanno ritornare era l'unica cosa buona forse ma neanche perché non dava quell'effetto terrorizzante che magari sai si trasforma in clown per avvicinare i bambini non per farli scappare fino ad altrove o che ne so io la mia speranza era e resta sempre il fatto che qualcuno si decida a fare una serie tv su It come si deve perché It come romanzo è trasformabile in una miniserie in due film no qualcuno che si decide a farlo ma lo fa con un'impronta più autoriale perché di questo passo veramente siamo messi male io ho letto anche il cast non è che stiano scegliendo sto gran cast di punta cioè io non vorrei dire all'epoca a prescindere ok tratto da Stephen King è tutto che fa un bel chiamo però aveva un cast che già aveva il suo chiamo aveva determinate cose e usciva nel periodo giusto questo sta uscendo fuori tempo senza ok Bill Skarsgård va bene Bill Skarsgård non ha più la pille del 2017 del 2019 diciamocelo chiaramente c'è stato il picco forse con John Wick 4 ora il remake del Corvo va visto per carità magari capolavoro dubito però non si sa mai quindi adesso noi ci ritroviamo con questo progetto con questo sperperare di soldi perché è uno sperperare di soldi secondo me per un progetto che non ha senso di esistere cioè io potevo capire ok dobbiamo fare un prequel su questa lore fantastica che non siamo riusciti a raccontare nei film ok quindi mi racconti della tartaruga dell'arrivo me lo ambienti magari quando arrivò all'origine di Derry una roba atipica particolare no me lo ambienti negli anni 50 e probabilmente sarà un rifare un soft remake reboot di quello che abbiamo già visto nei film cioè noi fra va su è una miniserie o una serie insomma che va in streaming io non capisco questa operazione che poi chiederò anche a Frank cioè tu spendi dei soldi per fare una serie per HBO Max cioè la gente si dovrebbe abbonare per vedere questa serie ma chi lo fa non è un progetto per cui ti portare secondo me fa la stessa fine di Furiosa se non peggio io ve lo dico perché veramente non ha quella pille da andare ma anche a richiamare i fan ripeto a me piace un sacco il romanzo sono comunque abbastanza con un po' di affetto verso i film di Muschietti ma anche qui richiamare Muschietti alla regia con il primo essendo un coming of age ancora ancora ok ma con il secondo secondo me ha strafatto troppo Muschietti poi vabbè The Flash lasciamo stare la moglie stessa secondo me è un progetto che veramente come sperperare soldi perdendoli non mi spiego io da appassionato diciamo del topic che dovrebbe adattare non mi spiego come mai debba esistere sta serie ripeto vuoi fare un prequel ci sono tantissime cose il romanzo ha 1600 pagine e ci sono tante cose di lore pregressa cose che ci vengono anche solo accennate dove tu io almeno mi sono appassionato a quelle cose veramente mi piacerebbe vedere un film su quelle origini ambientato in sarebbe molto uno saro uno sperimentare perché loro ambientano già i nativi americani della roba e farlo lì a quei tempi sarebbe un po' proviamo a fare qualcosa di particolare ok e va bene così però riproporre la stessa cosa negli anni 50 perché ripeto questo sarà in più questo è un prequel questo vuol dire che sicuramente come noi conosciamo HBO Warner e tutte queste produzioni qui troverà un pretesto per ricollegarsi ai film questa cosa porterà sicuramente a delle retcon perché noi nei film non abbiamo saputo nulla ora si scopre che i genitori dei ragazzini in realtà non li vogliono aiutare sono tutti così stronzi perché in realtà erano i protagonisti e non lo so però cosa vi dico ha detto già tanto Fra di sicuro è più esperto di me sull'argomento perché ha letto anche il libro Io Shining non scusatemi Shining Hit di King non l'ho letto ho letto molto di King tra cui anche il saggio è un writing che a me va tantissimo sempre di citare perché io da scrittore l'ho letto dieci volte però non conosco la loro approfondità di Hit perché il personaggio non mi ha mai interessato in modo particolare quindi se io ti dovessi rispondere in modo molto arcadioso ti direi me ne sbattono i coglioni del prequel della serie TV perché non sono appassionato del personaggio i film li ho guardati cosa ti aspetti mi aspetto le origini di Hit che cosa potrebbero raccontare secondo me le origini allora io almeno Frami dice di no però io da non appassionato mi sono visto i film di Hit conosco ovviamente la primi la duologia conosco quelli di Muschietti non sono così negativo come molti pensa perché anche perché io penso che la duologia originale avesse bisogno di un remake perché il finale con il ragnone gigante impupazzoso degli anni 70 non si può guardare più veramente invecchiato male 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 una delle scene delle sequenze più brutte dei film iconici di quegli anni quindi c'era bisogno di un remake non mi ha fatto impazzire in modo particolare però mi pongo un po' nel mezzo non sono nemmeno così come dire non sono nemmeno così arrabbiato con Muschietti il fatto che c'è sia Skarsgard forse sarebbe l'unica cosa che mi attira anche perché da quello che ho lesso leggendo un po' di notizie in giro infatti ne volevo parlare pure su Cinefolli però ancora siamo ancora presto proprio avanti magari ho letto che Skarsgard ha fatto si è veramente superato ha superato se stesso a quanto pare in questo secolo da quello che stanno dicendo addirittura ha impressionato lo stesso regista insomma stanno parlando vabbè sono classiche affermazioni che si fanno però è obiettivamente Skarsgard è uno dei migliori lettori questo non c'è dubbio cioè io io adoro ogni cosa ogni personaggio che fa adoro ogni cosa che fa è un personaggio che riesce a andare è un personaggio un attore che riesce a andare sopra le righe ma lo facendolo bene lo riesce a fare molto bene riesce a gestirlo molto bene ecco non si copre di ridicolo come ha fatto Hemsworth in Mad Max perché Hemsworth non è assolutamente a livello di Skarsgard io sono sincero non sono d'accordo a me a Skarsgard invece io lo adoro quindi è l'unica sarebbe io credo che sia l'unica cosa che potrebbe attirarmi a guardare sto prequel a maggior ragione perché Fra mi dice che non è manco le origini di It quindi a che cazzo dovrei avere da guardarlo a fare sta cosa cioè perché mai dovrei guardarlo per quale motivazione si inventeranno personaggi nuovi welcome to Derry mi fa pensare ancora ancora alle origini magari non di It quanto meno della città di Derry o comunque alla maledizione no niente che cazzo raccontano questi non lo so io ti dico solo e poi ti lascio continuare le origini risalgono ai nativi americani nei primi anni cioè risalgono sia di Pennywise sulla terra che arriva sulla terra perché noi ricordiamo c'è un alieno bla 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 sia sul fatto che arriva sulla terra sia nella proprio la cittadina di Derry quindi negli anni cinquanta io non ho la più pallida idea di cosa possono raccontare nel romanzo c'è la storia dei ragazzini loro da giovani ambientata negli anni cinquanta il presente ambientato negli anni ottanta quindi non c'è neanche nulla nei romanzi sarà un rifacimento ma non so se hanno arruolato King per scrivere qualcosa non lo so immagino di no perché altrimenti avrebbero dovuto pagarlo profumatamente quindi non lo so io probabilmente lo guarderò ma al massimo perché poi ne parliamo un po' scambiamo tanto per scambiare quattro chiacchiere ma di certo l'hype è a zero aspetto più la serie di Harry Potter che questa sì è vero anche altre due notizie alla fine Venom il trailer lo facciamo velocemente anche se l'abbiamo fatto in cine folli giusto per chi è qua sul canale ma possiamo tornare a a sognare Zack Snyder torna con il prequel di 300 la domanda è perché leggo il il passaggio del di questo sito abbastanza noto Warner Bros conferma i rumor ed elinea il progetto futuro che ci riporterà nel mondo della graphic novel di Frank Miller il progetto è nelle primissime fasi sono state coinvolte diverse persone compreso lo stesso Snyder che dovrebbe tornare nelle vesti di regista e produttore e esecutivo con la moglie Deborah Snyder e il suo collaboratore Wesley Kohler vabbè quanto riguarda il plot invece tutto ancora top secret il plot invece essenzialmente un sequel di 300 incentrato su Alessandro Magno e la sua relazione omosessuale con il secondo in comando e festione e questo mi viene in mente un video del grande amico di Frank Kalel che aveva detto che per una prima visione mi pare non mi ricordo di che film Rebel Moon si aveva incontrato Snyder e fuori dalle telecamere gli aveva chiesto quale progetto stava lavorando e Kalel aveva detto che c'era questa relazione omosessuale quindi presumo sia quello il progetto comunque Alessandro Magno e il suo secondo e festione invece in realtà la Warner nega nel senso che dice che è un prequel del film del 2006 vedremo vedremo è questo non ci sono altre notizie su Cinefolli se ci fossero delle nuove news le tratteremo suppongo Frank ti ho visto molto no e non era a conoscenza di questa di questo prequel quindi darò un occhio attento come giustamente anche detto tu magari ne parleremo ancora prossimamente perché al momento non ho trovato nulla quando si parla di Zack Snyder io avverto sempre un magone perché sempre quando parlo di distruggista c'è sempre quella cosa di chi ma io che non lo sento più siamo in due vabbè tanto qua taglia il montaggio Frank questi sono Restore the Snyder verse che lo stanno ottenendo eccolo questi sono i fan di Snyder l'ho detto ecco ora vi vedo che è successo? oh è non è ribloccato ma io ah pensavo tu ok ok allora rifaccio 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 vai allora Zack Snyder il prequel di 300 io quando parlo di Zack Snyder come dicevo avverto sempre un magone perché è uno di quei registi che ci prova ed è anche interessante nelle idee che mette nei suoi progetti però poi puntualmente ti caccia fuori quella cosa pesante sapete tipo quando vai a casa della nonna la domenica e ti mangi il ragù torni a casa non riesci a camminare non riesci nemmeno a respirare questi sui film Zack Snyder e ne abbiamo visto con il rebel moon che è una cosa pesantissima sono ingrassato 30 kg dopo aver visto quella cacchio di duologia è veramente pesante e secondo voi ma che che vi può cacciare dal sprequel di 300 che poi Giuseppe diceva Arca hanno cacciato fuori la storia omosex un po' la brook 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 come era brook back mountain o something like that un po' allora ovviamente non è il problema non è quello anche perché sappiamo brook no aspetta brook back mountain quello che è brook back mountain sì 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 allora sappiamo incredibile sappiamo che gli antichi greci così come i romani avevano una libertà sessuale che noi che la società di oggi non riuscirebbe mai ad accettare facevano cose anche ovviamente non proprio giuste come ovviamente c'era anche la prostituzione lì dei bambini i fanciulli e tutto il resto quindi erano molto libertini dal punto di vista sessuale quindi non è un qualcosa di forzato non sarebbe forzato inserire quel tipo di storia all'interno del film a me preoccupa più che altro che 300 ha un suo focus molto specifico cioè la battaglia delle termopili che era stata una battaglia fondamentale decisiva nella storia greca perché ovviamente i greci riuscirono a fermare i persiani di Serse e quindi in poche parole riuscirono a dimostrarono all'occidente che non era facile essere invaso ecco non era facile invadere l'occidente da parte dell'impero persiano quindi fu una dimostrazione di forza di coraggio non indifferente da parte dei greci e è rimasta nella storia infatti questa storia a cui mi hai accennato ma che cioè non mi sembra avere lo stesso interesse cioè non mi sembra poter interessare allo stesso modo della storia delle termopili con i 300 eroi spartani e tutto il resto e si aggiunge la storia che non sembra poi questo granché ripeto non per la questione omosessuale ovviamente si aggiunge poi il fatto che è Zack Snyder quindi io già mi immagino le ing... le slow motion nooo 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 basta io sono quello che posso aspettare ti immagini quindi no allora per me è assolutamente un no un no ma ripeto non per quello non per quelle per le cose in slow motion ma perché Zack Snyder mi sono un po' stancato di Zack Snyder vi devo dire la verità dopo i due film che ci hanno somministrato in tre mesi in tre mesi mi sono dovuto sorbire cinque ore di Zack Snyder penso che io ne ho per almeno vorrei prendermi una pausa da lui per almeno per qualche anno invece non so quanto arriverà penso l'anno prossimo duemilaventicinque duemilaventicinque mamma mia duemilaventicinque sarà un grande anno mamma mia la roba che arriverà duemilaventicinque quindi poco poco interesse poco interesserò al progetto per quanto continueremo a continuerò sicuramente a interessarmi al progetto a cercare di capire che cosa effettivamente com'è cosa racconterò nello specifico perché poi alla fine voglio capire perché il problema di rebel moon era proprio questo cioè alla fine che ha raccontato due film cinque ore di film va per raccontare che cosa nulla zero tutto un aspettamento mentale spaziale di Zack Snyder doveva essere il nuovo star wars ma va cagà no Zack scusa lui ti vuole bene ma non lo sa dimostrare fra io più che altro sono terrorizzato da una dinamica che è quella Zack Snyder dice una cosa la Warner Bros si dissocia totalmente dice un'altra cosa io ripeto sono terrorizzato da questo perché se la stessa Warner Bros dice guarda se vogliamo vendere sto film è meglio che non lo diciamo in giro di cosa parla ho un po' di paura soprattutto questo ritorno con la Warner Bros che sicuramente nuocerà molto sui social perché come conosciamo già Snyder Restore the Snyder ho una community abbastanza particolare e questo ritorno a Warner Bros mi fa paura non tanto nella realizzazione nel continuo della sua diciamo saga DC quello che è perché non accadrà ma più che altro nello dare speranza a questa community che io ho paura per quello che arriverà dopo onestamente però ok il problema ripeto è che loro si dissociano cioè loro dicono una cosa e lui ne vuole fare un'altra io non la voglio la director's cut la Snyder cut anche di questa roba qua non la voglio non la voglio perché sappiamo già tutti come finirà Warner Bros vede sta roba dice no taglia qualcosa tagliala perché deve andare no e anzi è una serie tv non deve andare al cinema almeno però taglia qualcosa e poi ci sarà anche la Snyder cut se la guarderà tutta e la commenterà su Cenefolli vabbè vado io velocemente io dico finisco solo dicendo che 300 tra l'altro a me non è piaciuto per nulla e io vedermi una serie tv diluita e tutto starò alla 300 no ok io devo dirvi che Zack Snyder per me ha fatto un bel film e un film decente decente fra virgolette il film decente fra virgolette è 300 che io riguardo sempre con passione perché mi gasa è un film che mi gasa tantissimo devo dire e mi piace da vedere anche come guilty pleasure quindi il problema qui è che come ha detto Frank la storia si è esaurita qual è il problema dei prequel sequel non è che l'idea che tu faccia un prequel o un sequel ma di solito con i bei prodotti cioè di quelli di cui si fanno i sequel eccetera tu hai già detto tutto perché se no non sarebbero belli e quindi se tu mi hai già raccontato la storia è finita che cosa vuoi dire e infatti si va su altre cose si prende il coprotagonista che aveva dieci minuti su schermo e la si rende protagonista oppure si prende un certo aspetto che era secondario ma un dice ma che cazzo mi frega e quindi c'è sta storia che è campata per aria secondo me questo film la guerra non sarà centrale qualunque sia la guerra che si deve combattere non sarà centrale e uno gli dice ma allora perché non ho visto la commedia romantica su Netflix perché devo vedere il film di Snyder quindi sono molto molto curioso ma tutto fa parte del discorso che ho fatto sul mio video uno degli ultimi sui sequel e lo remake che è disponibile e questo sono disperati e dicono ah ha avuto successo quel film sì perché è incassato 450 milioni nel 2006 tipo come possiamo fare e facciamo un sequel facciamo un prequel facciamo qualcosa disperati alla frutta alla frutta proprio non c'è speranza io sono sempre più triste per questa situazione nessuno è molto preoccupato per questa situazione quando dovrebbe esserlo essenzialmente se andiamo avanti a brand morti che vengono riproposti poi finiscono e quando finiscono che facciamo? facciamo il sequel del prequel del sequel si dovrà fare ogni tanto una cosa originale una no no è usceno va bene avete altro da dire? andiamo avanti no che vuoi dire su Zack grande Zack grandissimo chiudiamo il trailer della giornata Venom 3 The Last Dance abbiamo parlato su Cinefolli qua siamo un po' più brevi allora io penso che come ho detto Venom del Dito Amardi non è Venom e la gente che si lamenta del fatto che non lo sia non ha visto gli altri due film perché è inutile lamentarsi al terzo film del fatto che non sia Venom detto questo sicuramente i film non sono seriosi non sono drammatici e non vogliono puntare su una storia forte quindi io da questo Venom 3 mi aspetto una super cazzatona e il trailer mi ha fatto ridere basta finito se vi aspettate il fin dell'anno non lo troverete se invece volete il film serioso The Batman non è il film per voi se vi piace un po' il trash può anche piacervi e poi dico secondo voi ma perché l'hanno fatto perché incassano quindi è inutile lamentarsi di una formula che vince perché quando uno si lamentava del fatto eh ma i film Marvel sono tutti uguali ed eravamo nelle prime tre fasi arrivano quelli della Marvel e dicono eh ma noi ci piacciono ha fatto 900 milioni questo film e quindi vanno avanti quando poi c'è la crisi perché non incassa non per la qualità eh perché non incassano i sordi allora si cambia in breve per me è una cazzatona con il cavallo Venom quello che vi pare certo la storia mi sembra un po' banale senza arrivano sti alieni e li devono menà gli uomini vogliono catturare Venom è un fuggitivo e basta ma che vi devo di che vi devo di fra io concordo con ciò che hai detto riguardo gli altri Venom ovvero molti mi hanno accusato no non è vero questo è Venom io da appassionato dei fumetti questo Venom non l'ho mai visto non è tipo Batman che esistono 7000 versioni non è tipo Superman che esista anche il Superman atterrato in unione sovietica no Venom non è mai stato così però si hai ragione cioè arrivi al terzo film questa è una elementella che neanche io ormai faccio io più che altro mi pongo davanti a chi ha diretto questo film che non è è il suo primo film che gira non è una regista cioè si è regista ma dopo questo film ed è la sceneggiatura di 50 sfumature di grigio dell'adattamento che ha fatto e degli altri due Venom che io onestamente ho paura perché il primo Venom a me la storia ok è un'introduzione anzi il primo Venom secondo me è anche il migliore cioè il secondo avevano il presupposto perché volevano fare una storia e qui mi ricollego con questo terzo da quel che sembra dal trailer almeno hanno messo Carnage che è un personaggio tra l'altro nei fumenti fantastico me l'hanno reso vabbè lasciamo stare poi come è venuto però ci hanno provato nel senso ok proviamo a fare sta storia venuta lasciamo stare appunto però qui dal trailer non sembra neanche avere una storia cioè sicuramente sarà io mi aspetto qualcosa non so se avete presente X-Men Dark Phoenix però senza Fenice mi spiego meglio sarà ci sono quelli che gli danno la caccia nei militari e ci sono gli alieni che vogliono cacciare il simbionte basta abbiamo scritto una sceneggiatura capolavoro durerà due ore sta roba non sarà un'ora e mezza come se sicuro ci metto la mano sul fuoco questo sarà il film questo Venom sotto copertura che cerca da scappare da lì e da lì fa ogni tanto lo scemo balla con la signora Wong l'ultimo ballo quello sarà a me fa paura perché Dark Phoenix senza Fenice che probabilmente era l'unica cosa che stavano provando ad approfondire in quella roba di film no non è che è schifo eh dico solo questo quindi ho paura però ormai dopo il 2 Fra ha detto un po' se ci fai caso quello che ha detto John Power era anche nella su Cinefoglie cioè ha detto che questo non è il Venom non è il vero Venom eh ma infatti io non l'ho mai messo in dubbio io non sono ripeto l'ho detto anche lì non sono esperto di Venom fumetto quindi non posso pronunciarmi al riguardo posso comprendere però quello che la critica nel senso che io da tolkeniano mi sono letteralmente in guerra al momento con la serie Rings of Power perché sta totalmente stravolgendo l'universo tolkeniano quindi chi più di me può comprendere il fatto che questo non è Venom ma torniamo a fare lo stesso discorso che ho fatto prima ovviamente chi è affezionato al prodotto originale che sia un libro che sia una serie che sia un fumetto è ovvio che poi ci tiene di più che la trasposizione cinematografica venga fatta fedelmente come esattamente io con l'universo di Tolkien e se non è così ovviamente le critiche suoneranno come esattamente come suoneranno le critiche se Harry Potter non dovesse essere trasposti in modo canonico con la serie tv quindi è una critica che io posso comprendere perfettamente e condivido perché ne faccio parte anche io con il mio universo preferito tralasciando questa andando invece a fare una riflessione prettamente cinematografica io lì mi associo a te Arca nel senso che mi aspetto la cazzatuna a me il primo Venom è piaciuto il secondo un po' meno ma non sono tra coloro che l'hanno distrutto perché perché io da un film di Venom mi aspetto non perché nel fumetto che io appunto non conosco ma perché da quello che ho visto dai primi film io dal film di Venom aspetto le cazzatune quindi esattamente come pure tu hai detto prima Arca se il terzo film dovesse rivelarsi diverso dai primi due magari ecco un po' il piatto da 5 stelle dopo due due cheeseburger dal McDonald's un po' in quel modo io rimarrei un attimo perplesso sulla cosa perché ormai la saga è iniziata come una cazzatona si è ha continuato come una cazzatona con il secondo e si chiuderà come una cazzatona la cosa che mi spaventa è l'elemento drammone che sembrano averci inserito spero che questo elemento drammone che ovviamente è motivato dal fatto che questo film chiuderà la saga e quindi non vedremo più Tom Hardy come Venom che ovviamente la lacrimuccia scende un po' a tutti che Tom Hardy si è fatto conoscere per quanto sia un attore a tutto tondo che ha fatto ben altri ruoli più importanti si è fatto conoscere con questo ruolo qui purtroppo al mondo e quindi nonostante tutto la chiusura di tutto io spero che non la mettano troppo sul serioso perché se io poi mi devo fare la risatina per Venom che fa quella battuta noi siamo bene no no siamo siamo bene siamo bene con la stronzatona che abbiamo visto nel trailer mi devo fare la risatona con il cavallo Venom con la tamarrata assurda lì e poi mi metti là il drammone dove devo piangere la cosa già mi disturba già solo al pensiero mi disturba ma non perché non deve esserci alcun dramma in un film comunque in un cine un cine comico in cine fumetto come questo ma perché spero che questo dramma venga gestito nel modo giusto perché se mi vogliono fa poi il drammone ma proprio quello pesante 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 allora io li mando a fanculo perché poi il film diventa né carne né pesce allora spero che il dramma ci può anche essere ma gestito nel modo giusto amalgamato nel modo giusto mescolato nel tutto distribuito nel tutto non è che mi fai due ore di di battutine del cazzo il caravallo Venom e poi alla fine dieci minuti mi fai piange non ha senso sta cosa quindi spero che la sceneggiatura sia gestita bene sia stata scritta bene spero che sia stata scritta bene alla fine dei conti finiamo sempre con quello finiamo poi Arca dice sì sì è Arca ma più che altro ti ripeto a me spaventa la gestione delle atmosfere perché il trailer ha fatto ha messo risalto proprio su quello ha messo risalto sull'aspetto drammatico di questa fine della saga quindi io spero che l'avranno gestita bene solo questo va bene torniamo con le Arca News martedì prossimo stiamo su Cine Folli invece tutti i giorni quindi io e io e Frank poi io fra vi dico lo vorrei chiamare di più però facciamo gli incassi della settimana quindi se uno non va spesso al cinema oppure non è tanto informato è un po' complicato ma se ci fossero notizie facili da insomma su cui informarsi sarò lieto di invitarlo insomma va benissimo va bene poi anche lui sta facendo la maturità come io e Frank quindi non avrà tutto sto tempo anche Frank non so come faccia fa gli studi e la tesi e come faccia vabbè quindi io vi saluto buonanotte anzi buongiorno buongiorno perché martedì e stasera su Cine Folli facciamo Iron Man quindi recuperate il primo film bella ciao a tutti ciao ciao